Migliore e bianco blu, il numero 29, Jason Williams. Cari amici sportivi, giocatori e dirigenti, vi ringrazio per la vostra preziosa presenza e di vostro sostegno e vi danno appuntamento sabato 18 gennaio per il conto di campionato contro lo Zuro che avrà inizio alle 19.45. Grazie a tutti! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.